Tre sindaci di Rimini, l'attuale Andrea Agnasi e gli ex Giuseppe Chichi e Alberto Ravaioli e l'ex vice sindaco Maurizio Melucci, sono indagati per la vicenda dell'edificio destinato ad accogliere la nuova questura, ultimato oltre dieci anni fa, ma mai entrato in funzione perché la proprietà, la società Dama, dichiarata fallita ad agosto, non era riuscita a trovare un accordo per l'affitto col Ministero dell'Interno. Le accuse vanno a vario titolo da abuso d'ufficio o omissione di atti d'ufficio. L'indagine nasce da un esposto presentato più di un anno fa dal curatore fallimentare della Dama, Guerrino Mosconi, secondo il quale gli amministratori locali non avrebbero fatto il necessario per risolvere la questione e consentire così che la questura di Rimini, attualmente spalmata in quattro sedi, compreso il distaccamento di polizia stradale, si trasferisse nei nuovi locali di via Ugo Bassi. La procura della Repubblica di Rimini aveva chiesto per i tre l'archiviazione, ma proprio il Mosconi, tramite il suo legale, si è opposto alla richiesta. Così il giudice per le indagini preliminari ha fissato l'udienza in tribunale per il 16 dicembre. Qui il GIP potrà decidere se archiviare o far proseguire le indagini alla procura, ma anche disporre con una ordinanza che entro dieci giorni il Pubblico Ministero formuli l'imputazione.